Dare regole precise e trasparenti all'affidamento a privati della manutenzione del verde. La questione a giarre è trasversale ed è stata sollevata sia da opposizione che da maggioranza e nei prossimi giorni la quarta commissione consigliare incontrerà l'assessore comunale all'ambiente Salvo Patanè per iniziare ad avviare l'iter per mettere nero su bianco la gestione delle aiole e degli spazi comuni della città. Esiste una delibera ma non un regolamento e sono anche le associazioni locali a chiedere maggiore chiarezza su come adottare il verde pubblico. L'idea condivisa di sollevare il comune dall'impegno di curare giardini e piazzole vista la carenza di giardinieri e risorse economiche non può prescindere dal seguire un percorso di trasparenza, dice il presidente Angelo Spina. Per questo motivo stiamo avviando l'iter per affidare la manutenzione del verde a privati o associazioni concedendo un diritto ma imponendo dei doveri. Occorre dare regole comuni che devono essere rispettate.